Gentili telespettatori, buona giornata. Oggi è la seconda volta che parliamo di Firenze e di Nardella, il suo sindaco del Partito Democratico. Fratelli d'Italia dice, ma come soldi pubblici per celebrare la fine del mandato? Una denuncia che giunge proprio oggi. Un esponente del PD primo, almeno secondo i rumors, a candidarsi alle prossime europee. Nardella ha deciso di finire il suo mandato utilizzando soldi pubblici affidati con incarico diretto alla stessa agenzia, la Future Vox SRL di Genova, che ha curato la campagna per le primarie della segretaria Schlein e vanta collaborazioni con i gruppi PD in Liguria e Toscana. Poco meno di 100.000 euro per la realizzazione di 7 video composti con 210 foto, l'utilizzo di un drone e qualche intervista ai cittadini. Uno scandalo che non è solo economico, ma anche, se non soprattutto, politico. Sette video, 100.000 euro? E' caspiterina. Stiamo parlando di una roba come 12.000 euro per ogni video, con foto, interviste e qualche drone che svolazza. Beh, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Draghi, Alessandro, nella conferenza stampa illustra la denuncia. Dice, non contento di pagare profumatamente un capo ufficio comunicazione in comune e di avere già affidato, sempre direttamente, quindi senza gara pubblica, 60.000 euro a un'altra società esterna, stavolta torinese, avventura urbana SRL per l'attività di comunicazione di metà e anche di fine mandato, il nostro sindaco pensa bene di ricorrere a quest'ultima trovata per far vedere come è stato bravo in questi cinque anni con i soldi dei fiorentini, ha aggiunto l'esponente di Fratelli d'Italia. Soldi che potrebbero anche aumentare perché l'accordo prevede che in caso di realizzazione di altri materiali oltre quelli previsti, ci sia un aumento del 20% sul totale, quindi da 100 a 120.000 euro. intanto il centrodestra ha il suo candidato Eric Schmidt che potrebbe portare via la città, uno degli ultimi baluardi rossi in Italia, e così innescare una serie di lunghe e imprevedibili di reazioni a catena. Bene, ricordiamo come il progetto comunicazione che in capo al sindaco abbia già 14 persone assegnate, consiglieri di sinistra, progetto comune, a centrare tutto nelle mani dell'esecutivo e spendere così questi soldi non è opportuno. Anche la Lega è sulla stessa linea e dice In una fase storica nella quale il primo cittadino minacciava di spegnere le luci dei lampioni per mancanza di soldi, è inaccettabile apprendere che quegli stessi fondi pubblici vengano destinati a campagne di comunicazione sulla fine mandato del sindaco. Italia Viva, anche essi dicono, la cifra è esageratamente alta, sappiamo poi che c'è stato un affidamento diretto e verificheremo se sono stati chiesti altri preventivi. Di solito gli affidamenti diretti si fanno per cifre irrisorie, quei soldi avrebbero potuto far bene a tante famiglie, invece si è scelto di investirli sulla comunicazione. 7 video, 100.000 euro come minimo, quindi 12.000 euro a video. E' un po' tantino, insomma, però naturalmente poi uno si chiede ma come mai questi 100.000 euro sono davvero le tariffe o che cosa è successo? Non hanno fatto una gara pubblica, non hanno fatto dei preventivi, perché per fare 7 video ti potevano chiedere anche altri 1.000 euro a video, 7.000 euro per fare 7 video, insomma, o anche di meno, poi dipende che tipo di video è, cos'è un film di Fellini ogni video o che cosa? E' un film, un'epopea dell'antica Roma o che? Ci sono comparse, stuntmen, ci sono scenografie. Per giustificare 100.000 euro per 7 video, con fotografie, interviste e un drone che svolazza, insomma, capite che quando si utilizzano i soldi pubblici, 100.000 euro cosa volete che siano? Ma se fossero stati i soldi di Nardella, secondo voi avrebbe speso 100.000 euro per 7 video Nardella? O se li sarebbe fatti lui col cellulare i video, costandogli niente, un po' di fatica? Eh, probabilmente se li sarebbe fatti lui col cellulare. O li avrebbe fatti fare a qualcuno, metti un cellulare davanti la scrivania e ti fai, come fa la Meloni, il diario di Giorgia, lui poteva fare il diario di Dario, si metteva lì, col tre piedi, come sto facendo io, e parlava dei suoi successi e delle sue cose. Poi ci vuole un attimo a editare un video, qualunque persona si mette lì e ti edita un video, ci attacchi delle fotografie, fai la composizione, metti dei titoli ed è fatta. Però poi quando utilizzi i soldi pubblici dei cittadini, 100.000, va bene, va bene, dai, fammi sti sette video, 100.000, eh chi se ne frega, tanto mica paga lui, no? Quelli sono soldi, delle tasse, delle imposte comunali, eccetera, eccetera. Gaspiterina, 100.000 euro per sette video per il fine mandato di Nardella, io ve l'ho detto anche negli altri video che ho fatto anche oggi, in questi giorni, a me questo Nardella non è mai piaciuto. Da quando l'ho visto correre tutto aerodinamico verso l'imbrattatore di muri, in una scenetta che sembrava tanto preparata, che conveniva a lui, all'imbrattatore, per darsi visibilità a vicenda, quando l'ho visto in quella scenetta, mi sono veramente, una scenetta veramente deprimente, e poi tante altre cose che gli ho sentito dire e fare, ecco, poi c'è la storia che potrebbe essere il sostituto della Schlein, Caspiterina. Diciamo che potrebbe essere un degno sostituto della Schlein, uno che è molto simile alla Schlein, beh, sì, un po' più... però potrebbe essere anche un personaggio divertente per fare tanti video, perché uno che crea quelle scenette della corsa tipo flash verso l'imbrattatore di muri, ecco, ha delle buone possibilità per farci divertire alla grande. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie a tutti.